e controlla la tua connessione potrebbe non essere idoneo per lo string allora naturalmente come sempre ho bisogno di sapere se chissà se sono in diretta oppure no ci siamo ora sei diretta bene chiudi le applicazioni inutilizzate allora qualcuno mi può dire se se c'è qualche persona se sta funzionando tutto prima che iniziamo tra qualche minuto vedo che ci sa ci sono già tre persone siccome mi sta il programma mi sta dicendo che ci sono problemi di connessione buonasera eugenio mi sai dire se senti bene se vedi bene se funziona tutto dire insomma scrivere più che dire scrivere tutto ok bene bene buonasera tina carino buonasera tina buonasera tina bene eugenio sente bene piano piano si collegheranno anche altri amici buonasera maria angela buonasera ornella finché ci prepariamo riesco a salutare qualcuno buonasera ines terry anna anna dice che si sente bene qui c'è qualcuno che allora vediamo un po' pronto ecco ciao anna sì senti io sono già collegato e mi dicono che va bene ora qui da me c'è un grande un fortissimo vento per cui speriamo di non avere con le problemi di connessione bene 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 grazie ciao anna sì 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 cominciamo allora giusta certo certo è chiaro aspettiamo certo tra poco sì 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 certo a presto a dopo a dopo allora fra cinque minuti iniziamo la nostra diretta tanto si è aggiunta silvana gaetano e forse anche altri che adesso non vedo bene allora mentre devo far passare questi cinque minuti mi procuro un bicchiere d'acqua torno subito così vi lascio alla vista di qua dito qua questo è roberto setti che ci fa compagnia tutte le volte non vedo Grazie. Eccoci qua. Allora, mancano ancora 3-4 minuti. Tanto saluto Antonella, Dalise, Lucy Amma, Carmen, O'Arres. O'Arres, chissà da dove vieni. Ah, avete salutato Roberto, sì. Ah, Dalise 43 in realtà si chiama Mary. Bene. Poi c'è Anita, Maurizio, Susanna, Zingarelli. Guglielmo. Buonasera. Elena da Verona. La bellezza di questo strumento è che potete collegarvi da qualsiasi posto del mondo. Nicola, c'è anche Nicola. Buonasera, Nicola. Raffaella. Ecco qua. Maria Vittoria. Buonasera. Grazie di essere là. Adesso si sta aggiungendo un po' di gente. Ciao Paolo, Laura, Anita, da Parma. Siamo quasi pronti per iniziare. direi. Allora. Oh, ecco Anna. Tutto ok? Bene. Benissimo. Se sentite bene, vedete bene, vuol dire che le cose funzionano, almeno per il momento. Lucilla. Buonasera, Lucilla. Buonasera. Dunque. Allora, presentiamo come sempre questa occasione, questo incontro, che avviene all'interno, la pagina, sapete, Focus 3, 3.0, il mistero della vita, e siamo ospitati su questa pagina all'interno della sezione LUX, che è l'Università della Conoscenza voluta da Anna Tamburini-Torre, che ci sta seguendo in questo momento, e che ha dato vita a questa occasione per far conoscere tante cose nuove, creare una forma di continuità a questo sapere che possiamo condividere un po' con tutti. E quindi ci mettiamo a disposizione di questo. Queste nostre occasioni vengono registrate e poi sul canale YouTube di Focus possono essere riviste, sia sul canale di Focus 3.0, sul canale YouTube, oppure all'interno di questa stessa pagina, naturalmente, o della pagina, sempre Facebook, c'è il cerchio Firenze 77, una storia vera divenuta leggenda. In questi post, in queste pagine, voi potete trovare tutte le precedenti lezioni. Sul Focus sono tutte registrate sul canale YouTube, le ritrovate tutte in maniera organica e ordinata, delimitata proprio ai libri che sono stati, fino adesso, presi in considerazione, li trovate sull'altra pagina, che vi dicevo, dove Nicola Ferrentino ha fatto questo lavoro di riordinamento di questo materiale. Quindi, per chi non ha potuto seguire fino ad ora le dirette o si collega per la prima volta, c'è questa possibilità di tornare a vedere tutto quello che è stato detto precedentemente, perché è importante per poter procedere nello studio che stiamo facendo, perché è uno studio, in realtà, siamo dentro l'Università della Conoscenza, Anna Taborini-Corre lo ha voluto proprio come un'occasione di approfondimento di questi temi, quindi è proprio un vero e proprio studio. È necessario aver seguito e crescere insieme alla progressione di queste letture che facciamo. Adesso stiamo leggendo il secondo libro, siamo nella parte più introduttiva, quella che viene prima della parte filosofica dell'insegnamento vero e proprio. Stiamo leggendo dal Cerchio Firenze 77 il volume Oltre l'Illusione, che ha un sottotitolo dalle apparenze alla realtà. E un po' toccheremo questo argomento anche durante la lettura di questa sera. Siamo nella parte introduttiva perché sono parti molto significative quelle che stiamo leggendo, ora in particolare la prima parte dei libri del Cerchio Firenze 77, questo è il secondo dei libri del Cerchio Firenze 77, la prima parte di ognuno di questi libri è dedicata ad alcune lezioni, comunicazioni, chiamatele come volete, di alcune delle guide che hanno portato avanti questo insegnamento nel corso dei 37 e passa anni di vita del Cerchio Firenze 77. Ognuno dei volumi è costruito in questo modo, c'è una prima parte dove troviamo comunicazioni di Dali, di Kempis, di Claudio, di Teresa, del fratello orientale, e poi dopo inizia una parte che è la parte filosofica, una parte, cioè dopo una parte prima di testimonianza, di racconti, poi di presentazione di queste guide, poi entriamo nella parte filosofica. Ma prima di entrare nella parte filosofica di Oltre l'Illusione ho pensato di soffermarmi un pochino su questa altra parte perché ci sono dei contenuti che sono veramente interessanti, ma soprattutto che ci possono introdurre alla parte filosofica vera e propria, che nel caso di Oltre l'Illusione va presa con molta tranquillità, procedendo passo passo, grano a grano, perché, come ho detto altre volte, Oltre l'Illusione è in realtà un testo cruciale per il Cerchio Firenze 77 perché contiene una sintesi di tutto l'insegnamento successivo che verrà poi sviluppato, quindi è denso di contenuti e va preso un pezzettino per volta, cioè in calma. Allora, ricordiamo, dice Anna Tamburini, tutte le lezioni di Enrico sulla storia del Cerchio Firenze sono su YouTube Focus 3.0 nella sezione Lux, ecco, quindi sul canale YouTube nella sezione Lux, questa è una cosa che io non avevo detto perché non mi ricordavo, nella sezione Lux sul canale YouTube Focus 3.0. Bene, bene. Allora, procediamo con la nostra lettura. Noi siamo arrivati, dal volume Oltre l'Illusione del Cerchio Firenze 77, siamo arrivati a pagina 91 del libro Oltre l'Illusione, un capitoletto di Kempis intitolato Fantasmi della mente. Kempis è tornato più volte su questo argomento dei fantasmi della mente e quello che è interessante di questa lezione è che anche qui, pur essendo una lezione introduttiva ai temi filosofici, ci sono alcuni passaggi che hanno già il sapore della lezione filosofica e poi naturalmente potrete apprezzare, adesso che iniziamo la lettura, l'eloquio di Kempis, la perfezione stilistica, perché ricordate che quello che andiamo leggendo sono le lezioni così come sono state pronunciate durante la seduta, senza correzioni alcune, non ce n'era bisogno perché era semplicemente perfette in se stesse. Poi immaginate questa presenza di Kempis che mentre parlava camminava dentro il cerchio delle persone che assistevano assistevano perché diceva di amare questo stile antico di comunicazione, insegnare camminando. Un modo sicuro, dice Kempis, per tramandare la verità al di là dei periodi di oscurantismo è quello di mascherarla in un gioco o trasformarla in una favola. Il tarocco e la mitologia sono esempi eloquenti di questa affermazione. I simboli, le idee universali e assolute passano oltre fra le mani degli ignoranti e dei severi censori e giungono ad illuminare il cammino dei posteri che sono pronti ad intenderlo. Questa è già una cosa interessante perché alcune verità nascoste dentro, per esempio, il gioco del tarocco e tutte le storie che si raccontano nella mitologia e certe altre novelle molto antiche in realtà devono giungere a illuminare il cammino dei posteri anche perché in quel punto le coscienze che hanno camminato nei secoli, le coscienze che hanno manifestato se stesse attraverso molteplici esistenze sono diventate mature per cogliere il senso di quell'insegnamento contenuto, nascosto dentro il gioco, la mitologia, il tarocco. Tenetelo presente, voi che deridete le credenze degli antichi, quelle favole possono contenere una sapienza alla quale voi ancora non siete pervenuti. Ecco, qui si parla fra l'altro di verità, ma la verità che cos'è? La verità è la descrizione della realtà e di descrizioni della realtà ve ne sono molte. La realtà è una, sempre quella, ma le descrizioni della realtà, ovvero le verità, si adattano normalmente a livello evolutivo di chi le accoglie e le riceve o si adattano anche all'epoca in cui vengono proposte. Alcune cose che sono state proposte, per esempio da grandi maestri, da grandi illuminati, da grandi profeti, come per esempio il Cristo, come conosciamo perché fa parte della nostra cultura religiosa, ebbene, quelle furono proposte oltre duemila anni fa a persone che potevano accogliere questa verità nella forma in cui è stata proposta dal Cristo. Oggi noi possiamo andare oltre, possiamo incontrare verità un pochino più evolute dal punto di vista e della esposizione della verità e dal punto di vista anche dell'approfondimento dei concetti che si vogliono comunicare attraverso queste verità e che descrivono la realtà. Prometeo, dice Campis a pagina 92 di Oltre l'Illusione, Prometeo ruba il fuoco sacro agli dèi e per questo la sua condanna è di avere il fegato perennemente divorato da un rapace, ma alla fine è ammesso all'Olimpo. L'idea, il significato di questa favola, bene si adatta all'esistenza dell'uomo, l'uomo che a differenza di altri esseri del creato possiede l'intelletto, paga cara questa sua ricchezza, paga cara questa ricchezza. L'analogia è con il fuoco sacro degli dèi di cui Prometeo cerca di sottrarre, di rubare. L'uomo a differenza di altri esseri del creato possiede l'intelletto e paga cara questa sua ricchezza. Il prezzo dell'intelletto, il prezzo dell'intelletto è il prezzo di avere una mente, il prezzo dell'intelletto è il dolore. E in effetti si può dire che il 90% della sofferenza che patisce l'uomo scaturisca dalla sua mente. Togliete quel 10% causato dal corpo ed il resto è tortura inflitta dalla mente creatrice dell'io e dei suoi inestinguibili conflitti. Più che la materia, un sogno ha il potere di farci soffrire. Intanto qui si ricorda una cosa molto importante dove dice il resto è tortura inflitta dalla mente creatrice dell'io. Si ricorda che l'io è un prodotto della mente dell'uomo e l'io, come sapete, è quella struttura creata, costruita da ognuno di noi per confrontarsi con il non-io. L'io esiste finché esiste la dualità. L'io che si confronta con tutto ciò che non è io e dice qua che Empis è questa mente la quale che crea l'io e si può dire che l'io e la mente sono quasi sinonimi in un certo senso, sono quelli che determinano tutto il dolore che l'uomo incontra. la maggior parte, la quasi totalità del dolore che l'uomo incontra. E quindi più che la materia, più che la cosa concreta, la carne, è un sogno che ha il potere di farci soffrire, cioè una forma di illusione. Dimmi, fratello, perché soffri? Perché i tuoi meriti non sono riconosciuti? Perché non sei il primo in senso assoluto? O se sei il primo temi di perdere il primato? Sei incompreso? Non sei amato? Sei tradito? Sei sfortunato? Vedi, la tua sofferenza fa parte di quel 90% di cui ti dicevo stai pagando lo scotto di possedere una mente. Infatti, la causa della sofferenza umana non sta negli eventi che rendono diversa la vita da come l'uomo vorrebbe. È risaputo. Accontentandolo, l'umano non lo si rende felice per più di un fiat, per più di un istante. La sua mente lo condurrà su nuovi terreni di contesa ed inquietudine. Allora, se gran parte della sofferenza che ci amareggia viene dalla mente, meglio sarebbe non possederla e vivere nell'incoscienza di sé. La mente è un mezzo della nostra evoluzione. Attenzione, è un mezzo della nostra evoluzione, cioè uno strumento che ci permette di procedere nel nostro percorso. La mente è un mezzo della nostra evoluzione che ci apre ad una fase successiva della nostra esistenza, quella di coscienza-sentimento. Ma dobbiamo imparare ad usare bene questo mezzo, a non essere sua preta. Dobbiamo riuscire a percepire al di là del dualismo io-non-io di cui ci fa schiavi. La mente ci fa schiavi del dualismo io-non-io. Guardate, si può dire in maniera molto semplice che la quasi totalità, pur entrando proprio nelle pieghe più profonde, quelle due o tre persone che terranno duro e continueranno a seguire queste letture fino in fondo, per quanto sarà possibile proseguirle, alla fine sapranno, capiranno, faranno questo viaggio dentro l'insegnamento dei maestri del Cerchio di Firenze 77 e entreremo nelle pieghe più nascoste, più recondite di questo insegnamento, di come funziona la realtà, il sentire, tutto quello che c'è. Ma, dunque, chi chiede Molinari dove stiamo leggendo, pagina 92, più o meno metà pagina. Ma si può dire che il percorso di insegnamento vuole farci intendere quanto soggettiva sia la nostra esperienza e quanto sia proprio un errore di interpretazione vivere la nostra realtà partendo dal paradigma io, non io. È un percorso che ci vuole far superare almeno nella mente, cioè proprio in quello strumento che ci vuole convincere che esiste la dualità, ci vuole far superare almeno nella mente questa concezione e farci capire in maniera estremamente chiara, nitida, approfondita, inequivocabile che in realtà non esiste questa dualità, come non esiste un mondo esterno a noi con il quale confrontarci. Perciò capite bene come questo è un ostacolo che noi incontriamo perché la mente è costruita per vivere la dualità e usiamo la mente per cercare di smascherare questa attività della mente. Quindi se, dice Keynes, nella possibilità che abbiamo di percepire e concepire il mondo in cui siamo immersi esiste questo errore fondamentale di parallaxe, che è un errore che ci fa guardare in una maniera non corretta quello che accade, per cui crediamo diviso ciò che non lo è, allora tutte le nostre convinzioni che si basano su questa possibilità sono errate. E le nostre convinzioni sono errate. Riflettete con queste poche parole la cultura, la civiltà, la storia sono liquidate, ridotte a farneticazioni, brancolamenti di chi non sa intendere e capire la realtà. incomprensioni, sospetti, gelosie, brama di possesso, onore offeso e vendicato, farse e tragedie si sono fondate e si fondano sui miraggi creati dalla mente che l'uomo non ha imparato a far funzionare correttamente. povera umanità, quante lacrime inutili allora. Ecco, è una sorta di ribaltamento completo di tutte le nostre convinzioni. Noi siamo abituati a guardare il mondo così come lo vediamo, facciamo tutti i giorni un'esperienza dentro il mondo, ci confrontiamo con le persone, abbiamo relazioni, incontriamo scenari, panorami, mondo fisico, materia e in questo ci muoviamo nella costante convinzione che io sono io e tutto ciò che incontro non fa parte di me e qualche cosa con cui io entro in contatto è diviso da me. Lo sforzo che i maestri fanno è ricondurci al fatto che noi non siamo divisi da niente. ma questo lo possiamo capire solo attraverso un percorso di comprensione e di conoscenza e di studio che ci permette di arrivare alla fine con semplicità a considerare come reale questa possibilità anche se i limiti di come noi siamo fatti ci impongono di continuare a guardare gli altri oltre la guaina del nostro corpo fisico oltre il limite di cui siamo costituiti come esseri incarnati partendo da questo allarmante presupposto che noi siamo vittime di noi stessi cioè della nostra mente perché diamo importanza a ciò che non ne ha allora viene spontanea una domanda perché Dio ci lascia nell'errore ci fa soffrire per situazioni che non hanno nessun riscontro reale ci fa sbranare gli uni con gli altri per questioni che nessun riscontro hanno nella realtà non voglio svalorizzare il dolore ma vi domando in assoluto ha senso una scala di valori qui si sta proprio affacciando il Campis filosofo ha senso una scala di valori chiede Campis tutto ciò che non è assoluto è ugualmente relativo la ripeto tutto ciò che non è assoluto e di assoluto c'è solo Dio è ugualmente relativo cioè tutto il resto che possiamo prendere in considerazione che non sia assoluto è relativo ed è ugualmente relativo rispetto all'assoluto qualsiasi cosa è semplicemente relativa non ci sono scale di valore in questo senso tutto ciò che non è assoluto è ugualmente relativo ed acquista valore solo se lo si riferisce a qualcuno e il valore che acquista non è lo stesso se lo si riferisce a qualcun altro allora esiste una scala di valori diversa per ciascuno di noi guardate che ogni riga ci sarebbe da soffermarsi a lungo perché dire che esiste una scala di valori diversa per ciascuno di noi significa dire che l'esperienza di ognuno di noi è talmente soggettiva per cui c'è una personale scala di valori che pensare di confrontare la nostra scala di valori con gli altri come se avessero la stessa scala di valori che è quella che facciamo costantemente quando ci relazioniamo con gli altri crea inevitabilmente difficoltà relazionali crea immediatamente divisioni distanze perché ognuno ha inevitabilmente la sua scala di valori ognuno deve essere incarnato con la sua evoluzione con la sua storia con il suo sapere la sua educazione e ognuno è veramente un mondo a sé stante inteso come espressione di sé e fa riferimento alla propria scala di valori e la vuole attribuire a tutti gli altri come fosse con tutti condivisa allora esiste una scala di valori diversa per ciascuno di noi in cui trova posto ogni esperienza da ciascuno vissuta e sono esperienze vissute anche quelle che sarebbe più proprio definire immaginate e qui ci dà un altro elemento se le cose stanno in questi termini e se ognuno ha la sua scala di valori e se da quella parte per incontrare il mondo convinto che il mondo intorno abbia o debba avere la stessa scala di valori ciò con cui si confronta sono tutta una serie di illusioni di proiezioni di sé di interpretazioni secondo il proprio paradigma non condiviso magari da quello dell'altra persona che si incontra e quindi in realtà sta immaginando relazioni convinto di vivere relazioni esattamente come lui crede che sia ecco dice Kempis la chiave di volta del problema fisicamente concreta o più immaginata che concreta una situazione è sempre illusoria nei confronti dell'assoluto ed è sempre reale e produttiva nei confronti di chi vi è immerso non reale nel senso che è vera l'esperienza che ognuno di noi fa è reale per chi la vive per me che faccio quella esperienza che incontro quella persona quello è un incontro reale quella è una esperienza reale ed è produttiva per il mio percorso evolutivo perché in quella relazione cresco faccio esperienza e cresco mi confronto e via dicendo poi che sia immaginata o che sia un pochino più vicino a quella che potrebbe essere la realtà di quell'incontro non ha importanza perché produce dentro di me quel fermento utile al percorso evolutivo che devo compiere e come potrebbe esistere una differenza fra una situazione fisica concreta e una più immaginata che concreta dal momento che lo stesso piano fisico non esiste oggettivamente se non come comun denominatore delle nostre innumerevoli percezioni soggettive qui vi ricordo le ultime lezioni del libro precedente che abbiamo letto dai mondi invisibili in cui abbiamo cominciato ad affrontare la questione dell'oggettività del mondo viviamo un mondo che è un mondo che è tra virgolette costruito dalle sonde sensoriali di cui noi siamo costituiti i nostri cinque sensi che ci restituiscono questa precisamente questa esperienza materiale del mondo e non un'altra e quindi attraverso questo limite che noi abbiamo come essere incarnati in questa forma con quelle limitazioni sensoriali in questo modo noi ci confrontiamo con quel particolare mondo e ognuno di noi essendo nella fase di incarnazione umana è dotato dello stesso della stessa tipologia di sonde di capacità sensoriali e quindi il comun denominatore delle nostre innumerevoli percezioni soggettive è il mondo con il quale ci confrontiamo cioè possiamo avere un'esperienza un po' diversa da quella degli altri ma sostanzialmente il mondo a cui diamo vita è il medesimo per tutti cioè un mondo fisico con lo spazio le distanze i colori i suoni gli odori i profumi i sapori e via dicendo e con cui noi entriamo in contatto cioè entriamo in in vicinanza toccando toccando e facendo esperienza di tatto sul mondo queste sono le nostre percezioni soggettive perché oltretutto di questa di questo comun denominatore di sensi che producono quel mondo con il quale noi ci confrontiamo in realtà facciamo ognuno di noi un'esperienza sua personale di cui non sappiamo niente rispetto agli altri immaginiamo che gli altri ne facciano un analogo alla nostra vediamo un tramonto e pensiamo che tutti quanti vedano quello stesso tramonto che vedo io ma quel tramonto io lo vedo con i miei occhi faccio un'esperienza soggettiva la vibrazione luminosa che raggiunge il mio cervello viene tradotta dentro il mio cervello in quella particolare immagine colore riflesso non è detto che sia per tutti così ognuno ha il suo strumento che è più o meno simile grosso modo sarà quella ma non è quella perché ognuno è diverso dall'altro e quindi sono percezioni soggettive e così tutto il cosmo è l'elemento comune lui dice dei nostri sogni dei nostri sogni perché è come se vivessimo un sogno non è un sogno qualsiasi non è un sogno libero di andare in qualsiasi direzione perché è un sogno regolamentato da cose molto precise cioè dai talenti che esprimiamo avere i cinque sensi avere una mente avere un cervello che funziona in un certo modo un apparato neuronale avere un corpo fisico e poi un corpo astrale un corpo mentale come abbiamo detto già nel volume precedente e tutto questo restituisce un tipo di esperienza e non un'altra quindi sogni tra virgolette ma non sono la realtà sono ciò che noi possiamo sperimentare per come siamo fatti ma dice Kempis non è importante che le nostre convinzioni e i nostri sogni siano più o meno aderenti a questa parvenza di oggettività perché siano produttivi di esperienze cioè non serve che siano esattamente quello che è per tutti gli altri non è indispensabile questo perché comunque producono per me un fermento interiore davanti a quel tramonto io mi commuovo e sarà così in questo tramonto sarà proprio quello il colore sarà quello l'effetto sarà vero non sarà vero mi commuovo un po' come quando guardiamo certe scene dentro un film noi lo sappiamo che è un film che stiamo guardando qualche cosa su uno schermo piatto prima le televisioni erano scatolone profondissime adesso sono proprio piatte quindi anche fisicamente noi vediamo che noi stiamo guardando qualche cosa su un piatto eppure vediamo la profondità vediamo le immagini le persone che si avvicinano camminando verso di noi gli attori che fanno e se sono bravi la scena commovente commovente la scena è di un certo tipo io che ho in me la capacità di commuovermi mi vengono mi commuovo mi sinumidiscono gli occhi e avviene dentro di me e sto vivendo una forma di illusione sapendo che è illusoria perché so che sto guardando uno schermo piatto quando non guardo lo schermo piatto ma guardo la vita è la stessa forma di esperienza mi tocca mi arrabbio mi commuovo mi innamoro mi perdo mi deprimo tutto questo succede dentro di me nella convinzione che dipende dal fuori che c'è intorno a me non solo dice Campis ma ogni tipo di esperienza è valido l'esperienza del santo vale quella della prostituta perché lo ripeto ciascuno ha una sua scala di valori inconfondibile con quella di altri qui ci starebbe bene anche non confrontabile con quella di altri la mia scala di valori cioè non si può chiedere al selvaggio dice Campis da qualche altra parte di essere in grado di fare le stesse cose di un San Francesco ovviamente non è possibile le scale di valori sono totalmente diverse quindi potremmo chiedere al selvaggio di esprimere se stesso per come può e ci aspettiamo che San Francesco invece faccia cose che pochi altri fanno se le cose stanno così dice Campis allora siamo sempre nel giusto attenzione adesso si dice una cosa un bel po' forte se le cose stanno così allora siamo sempre nel giusto anche quando crediamo nell'assurdo perché anche questo ci dà esperienza e quindi un progresso perché il progresso nasce con l'esperienza che è il fermento e la realizzazione del nostro procedere e se progrediamo qualunque tipo di esperienza noi abbiamo che senso ha allora tendere a migliorare noi stessi questa è una domanda provocatoria che Campis fa possiamo ottenere un'esistenza basata unicamente sui sensi sicuri del nostro progresso in ultima analisi è così e voi lo sapete nessuno regredisce vivendo nessuno regredisce per il semplice fatto di essere vivo nessuno regredisce perché ogni tipo di vita è comunque una forma di esperienza è l'espressione di un grado di coscienza sarà un grado di coscienza poco maturo si può essere ma esprimere se stesso in quel modo produce una serie muove una serie di cause produce produrrà una serie di effetti che ricadendo permettono il progredire anche della persona meno matura dal punto di vista della coscienza ma se guardiamo all'economia c'è qualcuno qui che mi dice che la linea va e viene mi dispiace non ci posso fare niente c'è un gran vento qua poi dove sono io quindi questo può essere un motivo proseguendo ma se guardiamo all'economia individuale l'interesse di ciascuno è quello di capire senza soffrire di usare la mente senza pagare lo scotto qui ci sta dicendo anche qualche cos'altro ci sta dicendo se la mente è la mente che costruisce l'io e l'io è divisivo e l'io è quella struttura che tende ad affermare se stesso che vuole ottenere che vuole calpestare gli altri pur di raggiungere i propri obiettivi che si pone come centro del mondo e si sente diviso da tutto quanto esiste che è il più grosso errore di parallasse che facciamo dal punto di vista della coscienza se l'io è questo e la mente è quella parte della nostra diciamo della nostra coscienza che determina questo io che crea questa struttura io allora la mente è quella che ci fa soffrire e se usiamo invece la mente per capire che le cose non stanno così per capire che noi non siamo divisi da tutto quanto sta intorno a noi ma che siamo la stessa esperienza tutta insieme cioè se usiamo la mente nel modo giusto non paghiamo lo scotto che viene generato invece dall'usare la mente in maniera del tutto inconsapevole continuando a sentirci divisi da tutti coloro che ci circondano e da tutto quanto esiste questo dice Campis non solo è possibile ma rappresenta quello che voi dovete fare se un uomo fosse convinto che lavarsi tutti i giorni fosse un comandamento di Dio fosse ciò che lui deve fare quella sarebbe la sua realtà ma quando avesse imparato a tenere fede ai suoi principi a comandare a se stesso allora sarebbe il momento di capire che la legge è fatta per l'uomo e non l'uomo per la legge la legge è fatta per l'uomo e non l'uomo per la legge che significa le leggi sono fatte perché gli uomini possano vivere armoniosamente fra di loro ma non ma non perché l'uomo sia succube è prigioniero dentro una forma che vuole solo indirizzarlo quando lui ancora non è in grado di fare a meno di una legge le leggi sono fondamentali regolano la vita tra gli individui quando gli individui non sono sufficientemente maturi per autoregolarsi ma quando gli individui si sanno autoregolare non ci sono più bisogno c'è più bisogno di leggi che li limitino perché perché sanno come fare per occuparsi di se stessi e degli altri senza entrare in conflitto senza fare del male senza pensare solo a se stessi ma hanno una visione della vita per la quale non c'è più bisogno che uno mi dica ti devi comportare in questo modo il momento di imparare ad usare la mente senza rimanere prigioniero dei fantasmi da esser creati sono i fantasmi creati dalla mente che generano la quasi totalità della nostra sofferenza non posso comprarmi che ne so l'ultimo cellulare di moda mentre le mie amiche i miei amici sì e questo mi dà dispiacere purtroppo alcune persone soffrono anche per cose di questo tipo sono solo solo questioni mentali di queste qua non sono altro non crediate che l'uso non corretto della mente da parte dell'uomo sia un errore del piano divino anzi ne fa parte i miraggi della mente sono mezzi adatti all'immaturità dell'uomo attraverso i quali progredisce i miraggi della mente sono mezzi adatti all'immaturità dell'uomo cioè l'uomo ha bisogno di sperimentare anche questa immaturità e quindi di farsi portare dalla mente dentro i suoi miraggi ma noi siamo a un punto in cui almeno possiamo capire di cosa stiamo parlando possiamo capire come funziona questo meccanismo possiamo avere le idee abbastanza chiare su qual è il funzionamento dopodiché ancora non riusciamo a vivere alcune cose o molte cose nella direzione che ci viene indicata dalle guide però almeno possiamo usare la mente per capire e qualche volta forse quando rischiamo di entrare nella sofferenza capire che gioco sta avvenendo tra noi stessi e ciò che sta intorno a noi in conclusione dice Kempis le situazioni nelle quali l'uomo è posto in forza della sua mente per quanto irreali possano essere costituiscono l'humus in cui affondano le radici della coscienza ma c'è un momento dell'esistenza individuale in cui queste radici debbono penetrare più in profondità alla ricerca di nuove situazioni che scaturiscano da un nuovo modo di vedere il mondo una nuova visione che non avvenga più in funzione dell'io e del non io e in cui non vi sia spazio per i fantasmi creati dalla mente questo è il viaggio ideale per sottrarsi ai meccanismi della mente così come la viviamo noi in una condizione di normalità non vogliamo noi vogliamo dice campis noi vogliamo aiutarvi nell'opera di rinnovamento che siete chiamati ad intraprendere prima di tutto in voi stessi aiutarvi a distruggere superandola la visione del mondo che avete che fate in funzione della separatività per questo come novelli di iconoclasti produrremo delle lacerazioni qua e là sul tessuto delle vostre convinzioni dei vostri sogni convinzioni uguale sogni convinzioni uguale sogni dice caro io ho così tanta confusione in me ho letto i libri ascoltati audio ma come se non riuscissi a farli sbocciare nella coscienza li ho nella mente e nel cuore ma in me non nasce ancora la serenità la comprensione non stiamo ti devo dire che non stiamo in realtà cercando la serenità in certi momenti la serenità interviene quando si coglie qualche cosa di un pochino più profondo cioè si illumina dentro di noi qualcosa noi in questo momento forse ciò che stiamo cercando è più di comprendere prima di comprendere però c'è la fase precedente che è capire allora inviterei soprattutto le persone che stanno iniziando adesso questo viaggio a non cercare di ottenere una forma di comprensione che è un gradino successivo al capire prima c'è la mente la mente razionale va attraversata tutta perché l'insegnamento dei maestri è un insegnamento estremamente logico va attraversata tutta visto tutto il quadro tutto il disegno nella sua meravigliosa perfezione direi ma la parte di comprensione cioè di fare proprio quell'insegnamento è qualche cosa che interviene in questo percorso di acquisizione di ciò che i maestri hanno spiegato attraverso la mente razionale questo è un processo che avviene naturalmente prima si capisce e poi si comprende quando si comprende avvengono dei cambiamenti ma è tutto molto naturale quasi inavvertito e non c'è da aspettarsi di dover raggiungere chissà quale particolare stato di coscienza bisogna essere molto molto semplici umili andare avanti e piano piano portati per mano dagli insegnamenti di questi maestri e a un certo punto ci accorgiamo guardandoci indietro che c'è stato qualche cambiamento qualcosa è avvenuto non sappiamo dove né quando ma qualcosa è avvenuto allora qui parla di piccole lacerazioni qua e là sul tessuto delle nostre convinzioni dei nostri sogni e qui è bella questa parte qui che purtroppo non posso farvi sentire in voce perché sono più guide che parlano c'è Teresa c'è Alan Campis Claudio Dali e Teresa Nefes Paracelso sono varie voci che hanno comunicato durante questi 37 anni questa successione di voci dovete immaginare dovete immaginare nel buio della stanza della seduta Campis che fino ad allora ha parlato camminando questa figura che veniva percepita come molto alta alcuni alle volte avevano quasi la sensazione che avesse una tunica mentre girava tra di loro parlando con questa voce con questi toni anche stenitori alle volte bellissimo e poi cominciano a succedersi una voce dietro l'altra una guida dietro l'altra e comincia Teresa dicendo non è vero che Dio abbia bisogno dell'uomo e che usare violenza in nome di Dio sia una cosa giusta egli vuole il nostro progresso e il progresso non può essere imposto ovviamente non è vero che Dio abbia bisogno dell'uomo perché Dio non ha bisogno di niente e l'uomo casomai che ha bisogno di qualche cosa e gli uomini talvolta vogliono imporre il proprio Dio e lo fanno e lo hanno fatto tutte le religioni lo hanno fatto con la violenza il progresso non può essere imposto il progresso è qualcosa che sboccia dentro le creature in maniera del tutto naturale attraverso il confrontarsi con le esperienze che fa Alan non è vero che sia censurabile chi è lontano da Dio nessuno può essere lontano da Dio è censurabile chi si serve delle cose sacre tra gli uomini per soddisfare la sua avidità chissà perché improvvisamente mi sono venuti in mente certi attici a Roma non è vero che la vita terrena campis non è vero che la vita terrena debba essere fuggita per farsi meriti in cielo ed onorare Dio l'inferno se esistesse non sarebbe abbastanza profondo per accogliere degnamente chi così avesse vissuto vedete anche queste ognuna di queste di queste piccole frasi che ci vengono date da questi maestri veramente sarebbe da soffermarsi intanto l'inferno se esistesse no perché ancora avesse un vago dubbio se l'inferno c'è o non c'è si metta l'animo in pace in un certo senso perché non esiste ma se esistesse non sarebbe abbastanza profondo per accogliere degnamente chi così avesse vissuto cioè chi avesse in qualche modo fuggito la vita terrena per poter avere il suo posto in un qualche paradiso Dali non è vero che il bene e il male siano oggettivi altro altra altro come posso dire una persona che conosco io usa sempre questo termine ogni tanto arriva dei maestri un siluro che ti toglie il fiato non è vero che il bene e il male siano oggettivi il bene e il male non sono oggettivi e che rappresentino la misura del vostro progresso o del vostro ristagno solo chi si pone al centro del dualismo bene e male per salvarsi si perderà a costui è preferibile un perverso perché per la legge di azione e reazione quanto più grande sarà stata la perversione altrettanto lo sarà la spinta evolutiva porsi al centro del dualismo bene e male vuol dire non scegliere né per l'uno né per l'altro cioè cercare di evitare di muoversi per non fare danni no sono persone che alle volte prendono gli insegnamenti di un certo tipo come il modo per cercare di evitare meno mi muovo meno meno cause muovo quindi meno effetti incontrerò questa forma di non vita o di vita trattenuta per non fare le esperienze fino in fondo dice Dali a costui è preferibile un perverso addirittura cioè uno che fa cose veramente disdicevoli brutte le peggiori perché il rimbalzo che avrà attraverso la legge di causa e effetto sarà tale che ci sarà una grande una grande spinta evolutiva Campis non è vero che l'argomento trattato renda morale odosceno un discorso i vaneggiamenti di certi cosiddetti mistici fanno impallidire l'avena dell'aretino sapete che l'aretino è una vena molto spinta dal punto di vista erotico Teresa non è vero che sia sufficiente amare il prossimo come se stessi pensate noi abbiamo questo come esempio massimo di capacità di espressione dell'amore non è vero che sia sufficiente amare il prossimo come se stessi occorre amarlo con imparzialità e per un fine di giustizia per cui l'imparzialità e la giustizia sono componenti essenziali per amare correttamente non è vero che solo chi ruba sia ladro lo è anche chi riceve senza dare non è vero che sia spergiuro solo chi giuri il falso chi tace sapendo e chi nasconde la verità con un linguaggio ambiguo è altrettanto spergiuro e propagatore dell'errore di ciò dovrà rendere conto non è vero che il matrimonio sia indissolubile pensate che queste cose sono state dette nel 75 scandaloso ancora allora dire soprattutto allora c'era un cattolicesimo molto chiuso molto molto forte da un certo punto di vista con dei dogmi intoccabili non è vero che il matrimonio sia indissolubile ciò che gli uomini congiungono possono dividere ciò che gli uomini congiungono possono dividere il matrimonio fatto da uomini è qualche cosa che gli uomini congiungono solo quelli che Dio unisce non potranno mai essere divisi né dagli uomini né dagli eventi cioè ci sono le forme di unione che hanno a che fare con la coscienza con il sentire e che non hanno a che fare con le forme che gli uomini danno a queste unioni non è vero che crescete e moltiplicatevi sia un invito perentorio perché l'uomo procrei senza tenere conto delle condizioni in cui dovranno crescere i figli pensate quanto è forte detta allora questa cosa è più crudele e perciò più colpevole chi lungamente fa soffrire di chi uccide non è vero che la sterilità e l'omosessualità siano delle anomalie della natura sono mezzi con cui essa tende all'equilibrio demografico pensate come sono rivoluzionari queste cose per tante persone anche difficili da accogliere far posto in sé non è vero che l'uomo sia arbitro della vita e della morte nasce chi deve nascere muore chi deve morire tuttavia non è vero per questo che l'uomo non sia responsabile delle sue azioni questo l'abbiamo già visto in un altro punto quando abbiamo parlato un po' della legge di causa di effetto del karma un uomo può capita che un uomo uccida un altro uomo quello che uccide è responsabile è responsabile per quello che ha fatto nei confronti dell'altro uomo ma l'uomo che muore doveva morire cioè chi uccide non ha il potere di togliere la vita solo che quella vita finiva lì doveva finire lì per questioni carni che in quel particolare modo perché per tutta una serie di motivi che abbiamo già illustrato già letto già incontrato le cose dovevano andare in quel modo quindi non abbiamo potere di vita e di morte sugli altri ma abbiamo responsabilità per ciò che facciamo non è vero che sia più importante l'azione dell'intenzione dall'intenzione si conosce l'uomo non è vero che gli uomini debbano godere della stessa libertà ve lo rileggo non è vero che gli uomini debbano godere della stessa libertà la misura della libertà deve essere in relazione con l'uso che di essa può essere fatto tenendo presente a questo fine che l'umile non è peggiore del regnante quindi il fine per cui si usa la libertà ma per avere un fine nell'uso della libertà bisogna avere anche la consapevolezza della libertà bisogna essere responsabili di se stessi e delle proprie azioni non si può per esempio dare una totale libertà a un bambino di non so giocare sul davanzale della finestra al quinto piano non si può dare libertà a chiunque nella stessa misura non è vero che il passato sia trascorso qui ricordate tutto il tema del tempo il tempo non esiste non è vero che il passato sia trascorso il futuro di là da venire il presente è tale solo per te e può essere ad un tempo passato e futuro degli altri perché anche qui l'espressione di un essere incarnato avviene attraverso l'introduzione nella sua esperienza del tempo ma il tempo con il quale noi ci confrontiamo ognuno di noi si confronta è il presente in cui ognuno di noi vive noi siamo vivi solo nel momento presente per noi il momento che è appena trascorso lì non riusciamo più ad essere vivi e in quello che verrà dopo non riusciamo ad essere presenti siamo presenti solo in questo istante siamo qui adesso in questo preciso momento e ogni volta che prendiamo in considerazione questa cosa è sempre in quel preciso momento non ce n'è un altro in cui possiamo essere presenti quindi il presente è tale solo per te quando lo senti mentre ti prendi in considerazione ma questo presente può essere per qualcun altro un passato o un futuro perché lui lo vivrà o lo ha vissuto in un altro momento Dali non è vero che chi vedete vicino a voi lo sia veramente e chi vedete agire agisca veramente e questo ribalta completamente la nostra concezione di relazione con gli altri noi li viviamo così dentro la nostra vita ma qui Dali mette dei dubbi molto grandi che spiegheremo andando avanti con l'insegnamento ciascuno deve imparare a contare unicamente su se stesso per questo deve sentirsi solo e indipendente dagli altri cosa che per noi è estremamente difficile perché noi siamo molto dipendenti dalla nostra famiglia d'origine dai nostri partner dagli animali con cui di cui ci occupiamo e accudiamo che riempiono la nostra vita e via e via e via Teresa non è vero che il bene sia opera di Dio e il male dell'uomo tutto fa parte di un grande piano divino in cui non c'è posto per l'errore e l'imperfezione e questa è la chicca finale di Kempis che potremmo capire solo andando abbastanza avanti con l'insegnamento Kempis non è vero che tutto ciò sia la verità ciò non di meno è vero e qui come lettura ci fermiamo ci fermiamo e do un'occhiata per un momento alle varie domande che sono state fatte da affermazioni domande dice qui per esempio Raffaella le esperienze di vita ci conducono alla nostra evoluzione ma come ci si libera dei fantasmi della mente perché convinzioni è uguale a sogni beh l'abbiamo detta l'abbiamo detto adesso perché convinzioni è uguale a sogni perché le nostre convinzioni sono le convinzioni create da una mente che si sente divisa da tutto quello che la circonda cioè una mente che introduce la dimensione della separatività ciò che noi dobbiamo fare dobbiamo almeno capire no fare forse no ma capire è che la normale condizione di esistenza che noi abbiamo è quella di sentirsi separati da tutto quanto esiste e addirittura talvolta anche da noi stessi da alcune parti da noi che non accettiamo e non vogliamo questo sentirsi separati da tutto ciò che ci circonda va superato perché è un errore di parallasse una forma di illusione che ci consegna una realtà confusa come quella in cui stiamo vivendo come si fa a liberarsi di fantasmi e la mente intanto studiando bene ciò che andiamo leggendo adesso questo è uno dei metodi dei modi che l'evoluzione mette a disposizione dell'uomo per superare questa convinzione della mente una volta che abbiamo capito con la nostra mente i fantasmi fanno un passo indietro cominciamo a guardare gli altri da un altro punto di vista cominciamo a sentirsi più uniti e meno divisi più che facciamo questo più che i fantasmi retrocedono più che la mente va sotto il controllo della coscienza allora vediamo cos'altro c'è dice Mauro Dio e l'uomo sono separabili forse non ha senso dire che Dio non ha bisogno dell'uomo l'emanazione divina è separabile da Dio ovviamente no ovviamente no non ha proprio senso dire che Dio ha un qualche tipo di bisogno in generale perché Dio non è qualcosa una coscienza che ha bisogno contenendo in sé tutto quanto esiste Dio e l'uomo non sono separabili Dio e l'uomo sono uniti ma gli uomini non lo sanno non sanno di aver già raggiunto l'obiettivo della loro ricerca di non essersene mai staccati ma che la mente attraverso la creazione dell'io determina questa condizione di separazione che si manifesta fin da prestissimo nella vita dell'uomo e quindi inevitabilmente ci sentiamo separati da tutto quanto cioè compreso da Dio che andiamo cercando pur essendo frammenti della sua stessa esistenza vediamo un po' alcune cose le ho lette altre cose sono tanti saluti è anche bello tutto questo insieme di saluti di gente che saluta tutta e io adesso vi saluto tutti ammetto che a volte dice Jung che a volte ho quasi il timore di cadere in un solipsismo nel pensare che quel film lo vedo solo io che le persone che mi stanno a fianco potrebbero non essere lì con me ma altrove presi dalla loro pellicola questa è l'ipotesi del solipsismo è un'ipotesi che può emergere dentro di noi ma la realtà è che noi facciamo parte di un disegno collettivo tutti quanti siamo immersi in questo disegno collettivo il fatto che noi ne facciamo un'esperienza soggettiva non trasferisce questo dentro una dimensione solipsistica perché nel solipsismo come sapete qualcuno avrà un po' di esperienza filosofica rispetto a questo è come vivere dentro un sogno tutto suo ognuno proprio il suo sogno qui questo nostro sogno questa forma illusoria è condivisa da tutti quelli che stanno attraversando l'esperienza di essere incarnati come umani quindi è una forma di sogno con regole precise e secondo una progressione evolutiva esatta logica conseguente non casuale non il sogno quindi come siamo abituati a pensarlo noi come qualche cosa che è una forma di vaneggiamento mentale durante la notte questo aspetto della non contemporaneità del sentire mi lascia sempre sconcertato se io vivo il presente con altre persone e queste persone come fanno a non vivere lo stesso presente ci torno sempre su questo aspetto dell'insegnamento ma è sempre ancora qualcos'altro difficile da comprendere per me lo si comprende un po' per volta e lo si comprende andando avanti con l'insegnamento perché si capisce a un certo punto che non può essere che così ora il fatto che tu sappia grazia che tu sappia che è che funziona così non cambia niente della nostra vita è solo avere cognizione di come funziona questa sorta di illusione che viviamo sappiamo che funziona così ma non cambia il nostro modo di vivere detto questa illusione perché i limiti che ci competono e di cui noi siamo portatori sono quelli ci consegnano un'esperienza di dualità di compresenza rispetto alle persone che incontriamo di illusione costruita in un certo modo che è essenziale per farci fare quelle esperienze che ci servono per il nostro percorso evolutivo bene direi che ci fermiamo qua ce ne andiamo ognuno a riflettere su quello che abbiamo letto vi suggerisco di continuare a rileggere a riascoltare le cose che abbiamo fino adesso appreso perché andando avanti bisogna averle molto presenti perché se ci manca qualche passaggio poi possiamo entrare un po' in difficoltà va bene adesso vi saluto è stato un piacere dice Anna Tamburini Torre che ringraziamo sempre per la sua idea di inventare LUX la prossima lezione di Enrico Ruggini alla LUX sarà martedì 3 dicembre alle 21.30 va bene grazie grazie di questa informazione buonanotte a tutti buonanotte a presto grazie